Ho forato, ho forato, ho forato! Qui Giorgio, ce l'ho io, ce l'ho io! Grande Brambo! Oh! Grazie Brambo! Oh! Meno male che c'era Brambo, pensavo di avere il ritardo per la puntata. Oggi vedremo come cambiare una ruota. Per prima cosa mettiamo un rapporto più duro, un trucco per farlo in fretta è questo, mettersi la bici al collo, quindi si può pedalare e cambiare molto velocemente. Fatto! A questo punto svitiamo il perno passante e togliamolo completamente. Adesso col pollice spingiamo sul deraiatore e facciamo uscire la ruota. Così è tolta. Ora prendete la ruota che volete montare, mi raccomando, pacco pennino a destra, disco a sinistra. Con la mano spingiamo verso il basso il bilanciere, facciamo salire la catena sull'ultimo rapporto, sull'undici, centriamo bene i pattini dei freni, mandiamo in battuta e inseriamo il perno passante. Facciamo sì che prenda bene il filetto e chiudiamo. Bici pronta! Se volete sapere quanto può essere utile padroneggiare questa tecnica, andate a vedere il video con gli spagnoli. Se invece vi piacciono i nostri completini ASOS, date un occhio allo shopping online. Mettete un bel like, condividete con i vostri amici e se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi cliccando qui sul globo. Arrivederci alla prossima puntata, ciao! 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 Grazie a tutti.